Capitolo 4 Una chiamata per il Dr. Sleep Gennaio del 2007. Nella torretta di Rivington House la stufa di Dan era al massimo, ma la stanza era ancora gelida. Una bufera accompagnata da raffiche di vento che soffiavano 50 nodi era scesa dalle montagne, facendo cadere una media di 15 centimetri di neve all'ora sulla città di Fraser, ancora avvolta nel sonno. Il pomeriggio successivo, alla fine della tempesta, alcuni cumuli sui lati dei palazzi di Cranmore Avenue, esposti a nord e a est, avrebbero superato i tre metri. A Dan non dispiaceva il freddo, raggomitolato sotto due piumoni, era al calduccio come un topo nel formaggio. Però il vento gli era penetrato nel cervello, proprio come si era insinuato attraverso le fessure delle finestre e delle porte della vecchia dimora vittoriana che era diventata la sua casa. Nel sogno lo sentiva ululare nell'albergo dove da bambino aveva trascorso un inverno. Anzi, nel sogno, lui era quel bambino. È al secondo piano dell'overlook. Mamma sta dormendo e papà è in cantina. A controllare vecchi giornali. Si sta documentando. Ne ha bisogno per il libro che sta scrivendo. Danny non dovrebbe trovarsi lì, né avere il passepartout che stringe in mano. Ma non è riuscito a resistere. In quel preciso istante sta fissando la manichetta di un estintore inchiodato al muro. È ripiegata su se stessa decine di volte. E sembra un serpente con la testa di ottone. Un serpente in letargo. Naturalmente non lo è. Lui sta guardando una manichetta di tela e non una pelle di squame. Però ci somiglia parecchio. A volte è un serpente. Forza, gli sussurra Danny nel sogno. Trema di paura. Ma qualcosa lo spinge a continuare. Perché? Perché si sta documentando. Ecco perché. Forza! Mordimi! Non puoi, vero? Sei solo uno stupido tubo. Il beccuccio dello stupido tubo si muove. E all'improvviso, invece che osservarlo di lato, lui può guardare direttamente dentro la sua apertura. O forse nella sua bocca. Una sola goccia trasparente compare sotto il buco nero, allungandosi. Dentro ci può vedere riflessi i suoi occhi sgranati. Una goccia d'acqua o di veleno. Un serpente o un estintore. E chi può dirlo, mio caro Redrum? Redrum, mio caro, chi può dirlo? Il tubo vibra rumoroso. E per lo spavento il cuore gli balza impazzito in gola. Solo i serpenti assonagli fanno quel suono. Il beccuccio del serpente estintore rotola via dalla manichetta alla quale era appoggiato, cadendo sul tappeto con un tonfo sordo. Vibra di nuovo. E lui sa che dovrebbe indietreggiare prima di essere attaccato e morso, ma è paralizzato dalla paura. Non riesce a muoversi e il beccuccio vibra. Svegliati, Danny! Gli urla Tony da chissà dove. Svegliati! Ma lui non ce la fa, proprio come non può spostarsi. Quello è l'overlook. Sono bloccati dalla neve e tutto è cambiato. Gli estintori si trasformano in serpenti. Le donne morte spalancano gli occhi e suo padre. Oddio, dobbiamo scappare via perché papà sta impazzendo! Il serpente assonagli vibra. Vibra! Dan sentì l'ululato del vento, ma non fuori dall'overlook. No. Fuori dalla torretta di Rivington House. I fiocchi di neve colpivano la finestra rivolta a nord. Sembravano granelli di sabbia. L'interfono vibrò. Scostò i piumoni e scese dal letto, facendo una smorfia quando appoggiò i piedi caldi sul pavimento gelato. Attraversò la stanza in equilibrio sui calcagni. Accese la lampada da tavolo, soffiando fuori il fiato. Non si condensava in vapore, ma anche se le resistenze della stufetta luccicavano roventi, la temperatura della stanza non doveva superare i sette gradi. Una nuova vibrazione. Premette il tasto dell'interfono. Sono qui, sono qui! Chi mi cerca? Sono Claudetto, Doc. Credo che ci sia un paziente pronto per te. La signora Winnic. Era quasi certo si trattasse di lei. Avrebbe dovuto infilarsi una giacca a vento, perché la donna si trovava nella Rivington Dew, e il vialetto coperto sarebbe stato più freddo dell'abbraccio di un cadavere. O del bacio di una morta. O roba simile. Da una settimana la vita di Vera era appesa a un filo. Era in stato comatoso. Con il respiro di Chine Stokes che andava e veniva. E per di più quello era esattamente il genere di notte che i pazienti e gli sgoccioli sceglievano per andarsene. Di solito alle quattro del mattino. Controllò l'orologio da polso. Soltanto alle tre e venti. Ma nessuno era infallibile. La risposta di Claudette Alberson lo sorprese. No, il signor Heiss giù da noi al primo piano. Sicura? Dan aveva giocato a scacchi con Charlie Heiss proprio quel pomeriggio, e per essere un uomo affetto dall'eucemia mieloide acuta, gli era sembrato vispo come un grillo. No, ma Edzie è lì con lui. E se è vero quello che dici? Dan sosteneva che Edzie non si sbagliava mai. Una conclusione a cui era arrivato dopo quasi cinque anni di esperienza. Azrael vagabondava liberamente per i tre edifici che costituivano il complesso dell'ospizio, passando la maggior parte dei pomeriggi acciambellato sul divano della sala comune, anche se di tanto in tanto lo si vedeva allungato su un tavolinetto pieghevole, come uno scialle buttato lì per caso. Magari vicino a un puzzle appena completato. Tutti gli ospiti lo adoravano. Se c'erano state delle lamentere sul micio di casa, Dan non era al corrente, e Edzie ricambiava l'affetto. Talvolta saltava in grembo a un paziente anziano in fin di vita, ma con delicatezza, senza fargli male. Un'impresa notevole è considerata la sua mole. Quell'animale pesava almeno sei chili. A parte i pisolini pomeridiani, Edzie non si fermava quasi mai nello stesso punto. Aveva posti da visitare, gente da vedere, cose da fare. Quel gatto è un gran dritto, aveva detto una volta Claudette a Danny. Gironzolava nel centro benessere, leccandosi una zampa e godendo del calore delle saune. Si rilassava su un tapirulan inutilizzato in palestra, si sdraiava sopra una lettiga abbandonata. Lo sguardo perso nel vuoto, fissando quelle cose che solo i gatti riescono a vedere. Ogni tanto andava a caccia nel prato sul retro, con le orecchie appiattite contro il cranio, il ritratto perfetto del predatore felino, ma se acchiappava uccellini o scogliattoli, aveva il buon gusto di portarli in uno dei giardini confinanti o nel parco municipale per dilaniarli. La sala comune era sempre aperta, ma a Edzie ci passava raramente, se il televisore era spento e tutti i pazienti se n'erano andati. Non appena la sera lasciava il posto la notte e Rivington House rallentava il ritmo, l'animale iniziava ad agitarsi, pattugliando i corridoi come una sentinella a quattro zampe sul limitare del territorio nemico. Quando le luci si abbassavano, era difficile scorgerlo se non gli stavi proprio davanti. Il suo anonimo manto grigio topo si confondeva con le ombre. Non entrava mai in una camera privata, a meno che il suo occupante non fosse in punto di morte. In tal caso si infilava dentro, se la porta era socchiusa, o restava seduto fuori con la coda avvoltolata intorno alle zampe posteriori, chiedendo di entrare con un miagolio basso e discreto. Quando gli aprivano, balzava sul letto dell'ospite. I vecchi di Rivington House erano più ospiti che pazienti, e se ne restava fermo a fare le fusa. Se per caso la persona che aveva scelto era sveglia, in genere lo accarezzava. Dan non aveva mai sentito che qualcuno avesse ordinato di cacciare via Edzie. Sembravano capire che era là in veste di amico. «Chi è il medico di guardia?» chiese Dan. «Tu!» rispose immediatamente Claudette. «Dai, quello vero!» «Emerson, ma quando l'ho chiamato in ospedale, la sua assistente mi ha detto di non essere ridicola. Le strade sono interrotte da qui a Timbuktu. Ha aggiunto che persino gli spalaneve aspetteranno l'alba, tranne che per gli sfortunati bloccati in autostrada.» «Eh, va bene, sto arrivando.» Dopo aver lavorato per un po' nell'ospizio, Dan aveva compreso che esisteva una divisione in classi anche per chi era in punto di morte. Le stanze del corpo centrale erano più grandi e costose di quelle delle strutture laterali. Nella dimora vittoriana, dove un tempo Ellen Rivington aveva vissuto e scritto i suoi romanzi rosa, le camere venivano chiamate Sweet e prendevano il nome da figli famosi del New Hampshire. Charlie Heiss era nell'Alan Shepard. Per raggiungerla, Dan dovette oltrepassare la zona ristoro ai piedi delle scale, dove si trovano i distributori automatici e qualche sedia in plastica rigida. Su una c'era stravaccato Fred Carling, occupato a sgranocchiare cracker al burro di arachidi e a leggere un vecchio numero di Popular Mechanics. L'uomo era uno dei tre inservienti del turno di notte. Gli altri due lavoravano di giorno a rotazione un paio di volte al mese. Carling? Mai. Amava definirsi un animale notturno ed era un corpulento a scansa fatiche le cui braccia, coperte da un intrico di tatuaggi, suggerivano un passato da biker. Ma guarda chi c'è! Esordì Fred. Il piccolo Danny! Oh, hai già assunto la tua identità segreta! Dan non era in vena di scherzi, ancora mezzo addormentato. Che cosa puoi dirmi del signor Ice? Solo che è in compagnia del gatto e che quindi finirà presto sotto terra. Non sta perdendo sangue. L'omaccione alzò le spalle. Sì, niente di che, dal naso. Ho infilato gli asciugamani sporchi in un saccone tossico, come da ordini. Sono nella lavanderia, se ti va di controllare. A Dan venne in mente di chiedergli come facesse a considerare una robetta di poco conto una perdita di sangue tamponata con più di un asciugamano. Ma decise di lasciare correre. Carling era un idiota insensibile. Restava un mistero come fosse riuscito a procurarsi un lavoro a Rivington House, anche se nel turno di notte, quando quasi tutti gli ospiti dormivano o rimanevano in silenzio per non disturbare gli altri, Dan sospettava che qualcuno avesse mosso le leve giuste. Così girava il mondo. Suo padre non aveva fatto lo stesso per ottenere il suo ultimo posto come custode dell'Overlook. Magari non era la prova lampante che fosse una porcata trovare un'occupazione grazie alle proprie conoscenze, ma di sicuro ci andava vicino. «Goditi la serata, dottor Sleep!» gli urlò dietro Carling, senza preoccuparsi di abbassare il tono di voce. In infermeria, Claudette stava spuntando la lista delle medicine, mentre Janice Barker fissava un piccolo televisore con il sonoro abbassato. Sullo schermo, una di quelle interminabili pubblicità di un prodotto per la pulizia intestinale, ma Jan la stava guardando con la bocca spalancata e gli occhi sgranati. La donna sobalzò quando Dan picchiettò le unghie sul bancone e lui si rese conto che non era affascinata, ma solo mezza addormentata. «Potete dirmi qualcosa di sostanziale su Charlie? Carling non mi è stato di alcun aiuto!» Claudette lanciò un'occhiata lungo il corridoio per assicurarsi che Fred non fosse nei paraggi e poi abbassò comunque la voce. «Quel tipo è più inutile di un venditore di frigoriferi al Polo Nord. Spero sempre che venga licenziato!» Dan la pensava allo stesso modo, ma rimase in silenzio. Aveva scoperto che la sobrietà costante faceva miracoli per la capacità di discrezione. «L'ho controllato un quarto d'ora fa!» rispose Jan. «Non li perdiamo d'occhio quando un certo signor micio viene a trovarli!» «Da quanto Ezzi è con lui?» «Stava miagolando fuori dalla porta quando abbiamo iniziato il turno a mezzanotte!» intervenne Claudette. «E così l'ho fatto entrare!» «E' saltato immediatamente sul letto!» «Sai come fa!» «Mi è venuto in mente di chiamarti già allora!» «Ma Charlie era sveglio e cosciente!» «Ha ricambiato il mio saluto e ha cominciato a coccolare Az!» «Ho deciso di aspettare!» «Circa un'ora dopo ha preso a sanguinargli il naso!» «Fred l'ha pulito!» «Ho dovuto raccomandargli di infilare gli asciugamani dentro uno dei sacconi tossici!» I dipendenti chiamavano così sacchetti di plastica idrosolubile nei quali venivano messi gli indumenti e la biancheria sporchi di fluidi e tessuti corporei. Si trattava di una disposizione statale per limitare il diffondersi delle malattie a trasmissione ematica. «Quando l'ho controllato un'oretta fa stava dormendo!» affermò Jan. «L'ho scosso leggermente! Ha aperto gli occhi ed erano iniettati di sangue!» «In quel preciso stante ho telefonato a Emerson!» riprese Claudette. «Dopo che la sua assistente mi ha mandata a quel paese mi sono rivolta a te! Vai da lui ora!» «Sì!» «In bocca al lupo!» gli augurò Jan. «Chiamaci se hai bisogno di qualcosa!» «D'accordo! Tra parentesi perché stai guardando la pubblicità di un prodotto per la pulizia del colon? o è una domanda troppo personale?» La donna sbadigliò. «A quest'ora l'unica alternativa è la televendita di reggiseni microfibra e io ne ho già uno!» La porta dell'Alan Shepard Suite era succhiusa ma Dan bussò lo stesso. Non ricevendo alcuna risposta la spalancò. La testiera del letto era stata leggermente sollevata probabilmente da una delle infermiere quasi certamente non da Fred Carlin. Charlie Heiss era coperto dal lenzuolo fino al torace. Aveva 91 anni era scheletrico e talmente pallido da sembrare trasparente. Dan fu costretto a restare immobile per una trentina di secondi prima di essere certo che la casacca del pigiama dell'uomo si alzasse e abbassasse. Edzie era accoccolato vicino alla sporgenza appena accennata di un'anca. Quando Dan entrò il gatto lo squadrò con i suoi misteriosi occhi. «Signor Heiss! Charlie!» Il vecchio non mosse ciglio. Le palpebre erano bluastre. La pelle appena sotto era ancora più scura livida e violacea. Quando Dan si avvicinò alla sponda del letto notò due crosticine rosse intorno alle narici. e una terza all'angolo della bocca serrata. Raggiunse il bagno prese una salvietta la bagnò sotto l'acqua calda e la strizzò. Quando fece il ritorno al capezzale Edzie si alzò spostandosi agile sul lato opposto del letto lasciando a Dan lo spazio per sedersi. Il lenzuolo era ancora caldo nel punto in cui il gatto si era accoccolato. Con delicatezza Dan pulì il naso di Charlie dal sangue rappreso. Quando passò alla bocca il vecchio sollevò le palpebre. Dan sei tu vero? Ho gli occhi un po' abbannati. Più che altro era un intrico di ragnatele rossastre. Come stai Charlie? Senti dolore? Se vuoi posso chiedere a Claudette di portarti una pastiglia. No, 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 male affermò il vecchio. Spostò lo sguardo su Ezzie per poi riportarlo su Dan. So perché è qui e anche perché sei arrivato tu. Sono sceso perché mi ha svegliato il vento in quanto il gatto probabilmente cercava compagnia. È un animale notturno in fondo. Dan gli rimboccò la manica del pigiama per sentirgli il polso e si accorse di quattro segni bluastri allineati sul braccio scheletrico. I pazienti leucemici in fase terminale si riempivano di lividi per un non nulla ma quelle erano impronte di dita e Dan sapeva perfettamente chi era stato a lasciarle. Da quando era sobrio riusciva a controllare meglio la rabbia eppure non era mai scomparsa proprio come il bisogno occasionale di bere. Carlin brutto figlio di puttana che cosa è successo era troppo lento per te oppure eri incazzato di doverlo pulire quando invece avresti voluto leggere le tue riviste e ingozzarti di quei fottuti cracker gialli. Cercò di non esternare i propri sentimenti ma Ezzy parve accorgersene e lanciò un flebile miagolio preoccupato. In altre circostanze Dan avrebbe affrontato la questione di petto però aveva problemi più urgenti di cui occuparsi. Ezzy aveva azzeccato di nuovo gli bastava sfiorare l'uomo per capirlo. Sono spaventato ammise Charlie la voce poco più che un sussurro il cupo costante lamento del vento quasi la soverchiava non avrei mai pensato ma eccomi qui non c'è nulla di cui aver paura. invece di controllare inutilmente le pulsazioni Dan gli prese la mano vide i figli gemelli di Charlie a quattro anni sull'altalena la moglie abbassare la serranda della stanza da letto indossando solo le mutandine di pizzo francese che lui le aveva regalato per il loro primo anniversario la coda di cavallo ricaderle su una spalla mentre si girava a guardarlo il volto illuminato da un sorriso che era un grande enorme sì vide un trattore farmal con un ombrello a strisce aperto sopra il posto di guida annusò il profumo di pancetta e sentì Frank Sinatra cantare come fly with me riecheggiando da una malconcia motorola appoggiata a un tavolo da lavoro ingombrato di attrezzi vide un coprimozzo colmo d'acqua piovana riflettere un fienile rosso sentì il sapore dei mirtilli e sventrò un cervo e pescò in qualche lago lontano punteggiato dalle gocce di un'acquazzone attunnale ballò a 60 anni con la moglie alla festa dei veterani spaccò la legna a 30 tirò un carrettino rosso a 5 con indosso un paio di panteroncini corti poi tutte le immagini si fusero insieme come un mazzo di carte mescolato da una mano esperta e il vento soffiava cumuli di neve giù dalle montagne e dentro c'erano solo il silenzio e lo sguardo solenne di Ezzi in momenti come quello Dan sapeva perché era venuto al mondo in momenti come quello non rimpiangeva il dolore la pena e la rabbia e l'orrore che aveva dovuto patire perché l'avevano portato lì in quella stanza mentre fuori urulava la bufera Charlie Heiss aveva raggiunto l'estremo confine non sono spaventato dall'inferno non sono stato un grande pecatore e comunque non credo esista un posto del genere ho paura che non ci sia niente gli mancava il respiro nell'angolo dell'occhio destro si stava allargando una goccia di sangue non c'era niente prima lo sappiamo tutti e dunque non è logico che non ci sia niente dopo invece c'è Dan gli passò il panno umido sul viso noi non finiamo mai veramente Charlie non ho idea di come sia possibile o di che cosa significhi so solo che è così mi puoi aiutare nel momento del trapasso gli altri mi hanno detto che ne sei capace sì posso farlo afferrò anche l'altra mano del vecchio ti addormenterai e quando ti risveglierai perché succederà ne sono certo tutto sarà infinitamente meglio il paradiso stai parlando del paradiso non lo so Charlie quella sera il potere era molto forte riusciva a sentirlo scorrere come una corrente elettrica attraverso le loro mani unite e si ripromise di essere delicato una parte di lui abitava il fragile corpo che stava cedendo e i deboli sensi sbrigati per favore che erano sul punto di spegnersi abitava una mente sbrigati per favore venuto il momento ancora lucida e consapevole che stava formulando i suoi ultimi pensieri almeno nei panni di Charlie Heiss gli occhi iniettati di sangue si chiusero per poi riaprirsi molto lentamente va tutto bene hai solo bisogno di dormire il sonno ti farà sentire meglio e così che lo chiami sì sonno e dormire non è pericoloso non andartene no sono qui con te non scherzava era il suo terribile privilegio gli occhi del vecchio si richiusero Dan fece lo stesso e vide una luce blu pulsare lenta nelle tenebre uno due stop uno due stop fuori il vento continuava a soffiare dormi Charlie te la stai cavando bene ma sei stanco e devi riposare vedo mia moglie in un sussurro appena percettibile davvero dice che e poi basta solo l'ultimo lampo blu dietro le palpebre e l'ultimo respiro dell'uomo sul letto Dan aprì gli occhi e restò ad ascoltare il vento in attesa dopo pochi secondi una nebbia rosso cupo si sprigionò dal naso dalla bocca e dagli occhi di Charlie era quello che una vecchia infermiera di Tampa graziata da un briciolo di Shining proprio come Billy Freeman aveva definito il rantolo aveva detto di averlo visto parecchie volte Dan lo vedeva sempre la nebbia si sollevò galleggiando sopra il corpo del vecchio e poi svanì Dan armeggiò con la manica destra del pigiama per sentirgli il polso una pura formalità di solito Ezzie se ne andava prima della fine ma non quella notte stava sul copriletto di fianco a Charlie lo sguardo fisso sulla porta Dan si voltò aspettandosi di vedere Claudette o Jen non sembrava però esserci nessuno e invece Ehi Niente Sei la ragazzina che ogni tanto si mette a scrivere sulla mia lavagna Nessuna risposta Però c'era qualcuno poco ma sicuro Ti chiami Abra Arrivò il leggero tintinio di un pianoforte quasi impercettibile per colpa del vento forse Dan lo avrebbe attribuito alla propria immaginazione talvolta era difficile distinguerlo dallo Shining non fosse stato per Ezzie che aveva le orecchie scosse da un fremito e non smetteva di fissare la soglia vuota c'era qualcuno e lo stava osservando Sei Abra? Un'altra cascata di note e poi di nuovo il silenzio accompagnato però da un senso di assenza Comunque si chiamasse era sparita Il gatto si stiracchiò balzando giù dal letto e uscendo come se niente fosse Dan restò seduto ancora per un po' immobile ad ascoltare il vento poi abbassò la testiera del letto coprì il volto di Charlie con il lenzuolo e ritornò in infermeria per dare notizia della morte del vecchio dopo aver finito di compilare i documenti necessari Dan raggiunse la zona ristoro un tempo ci si sarebbe precipitato con i pugni serrati ma quei giorni appartenevano al passato camminò con calma facendo lunghi respiri profondi per acquietare il cuore e il cervello c'era un detto degli alcolisti anonimi pensa prima di bere ma durante uno dei loro tetatet settimanali Casey K gli aveva consigliato di pensare prima di fare qualsiasi cosa la sovietà non ti dà il delito di comportarti da idiota Danny ricordatelo la prossima volta che darai retta alle vocine stronze che ti passano per la zucca però quelle maledette impronte di dita Kerling era stravaccato sulla sedia lo schienale appoggiato al muro occupato a masticare delle mentine al cioccolato aveva abbandonato Popular Mechanics per una rivista fotografica con l'ultimo bullo di un telefilm in copertina il signor Ice è morto lo informò Dan con gentilezza mi dispiace l'altro neanche alzò gli occhi dalle pagine comunque si trovano qui proprio per questo Dan alzò un piede agganciò una delle gambe sollevate dalla sede di Fred e diede uno strattone la sedia rotolò via e l'uomo stramazzò al suolo la scatola di mentine gli sfuggì di mano Kerlin fissò Dan incredulo adesso ho la tua attenzione figlio di Kerlin fece per alzarsi Dan gli affondò il piede nel torace spingendolo contro la parete mi sembra di sì perfetto ti consiglio di non muoverti resta lì seduto e ascoltami Dan si piegò in avanti le mani sulle ginocchia per resistere alla tentazione di sferrargli un pugno o due o tre fino a massacrarlo le tempie gli pulsavano impazzite calma non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento però era dura la prossima volta che vedrò i segni delle tue zampacce su un paziente li fotograferò e andrò dritto dalla Clausen così ti ritroverai sulla strada e tutte le tue conoscenze non potranno salvarti e appena non farai più parte del nostro gruppo di lavoro ti verrò a prendere e ti ammazzerò di botte Fred si alzò sorreggendosi alla parete senza staccare lo sguardo dal collega sovrastava Dan e pesava almeno 50 chili di più serrò i pugni perché non ci provi adesso d'accordo ma non qui c'è troppa gente che cerca di dormire senza contare il morto in fondo al corridoio che ha addosso le impronte delle tue dita non l'ho praticamente toccato gli ho solo controllato le pulsazioni quando hanno la leucemia basta poco perché si riempiano di lividi certo ma tu gli hai fatto male di proposito ne sono sicuro anche se non ne conosco il motivo un lampo attraversò gli occhi anebbiati di Kerling non di vergogna probabilmente non era capace di una simile emozione era il disagio di sentirsi scoperto e la paura di pagarne le conseguenze ma che grand'uomo sei dottor Slip credi di essere migliore di noi forza Fred usciamo non vedo l'ora era vero a parlare era un altro Danny relegato nel profondo ma che era sempre rimasto lo stesso violento irrazionale figlio di puttana con la coda dell'occhio notò Claudette e Jen a metà del corridoio abbracciate e con lo sguardo terrorizzato Kerling ci pensò su sì era più robusto e sì aveva le braccia più lunghe però era anche fuori forma troppi burritos troppe birre il fiato più corto di quando aveva vent'anni e quel tizio magrolino aveva un'aria inquietante un'espressione che aveva già visto in passato quando ancora scorrazzava in moto con il raw sense certa gente aveva le rotelle fuori posto che saltavano troppo facilmente e quando capitava i tipi di quel genere non mollavano fino alla morte aveva sempre giudicato Torrance uno sfigato disposto a farsi pisciare in testa senza reagire ma capì di essersi sbagliato la sua identità segreta non era dottor Sleep ma dottor folle dopo aver riflettuto attentamente sull'ultima considerazione Fred dichiarò non mi va di sprecare il mio tempo Dan rispose con un cenno del capo bene almeno non moriremo assiderati ricordati solo quello che ti ho detto se non vuoi finire in ospedale d'ora in avanti tieni le mani a posto e chi ti avrebbe nominato padrone della baracca non lo so sul serio non lo so Dan risalì nella sua stanza si rimise sotto le coperte però non riuscì a prendere sonno da quando si trovava a Rivington House era stato al capezzale di circa cinquanta pazienti mantenendo sempre la calma ma non quella sera Fred Carlin aveva rovinato tutto schiumava ancora di rabbia la sua parte cosciente odiava quella furia assoluta che gli faceva vedere rosso ma quella più nascosta e segreta l'amava profondamente forse era colpa della cara vecchia genetica il trionfo della natura sull'educazione più restava sobrio e più riaffioravano gli antichi ricordi tra quelli più vividi gli accessi d'ira del padre aveva sperato che Carlin accettasse la sfida seguendolo in mezzo al vento e la neve dove Dan Torrance degno figlio di Jack avrebbe dato a quel buono annulla la purga che meritava io solo sa quanto desiderasse essere diverso dal padre i cui rari momenti di sobrietà erano stati forzati e di breve durata l'alcolista anonimi avrebbe dovuto aiutarlo con la rabbia e la maggior parte delle volte funzionava ma c'erano momenti tipo quella notte in cui Dan si rendeva conto che era una ben debole difesa momenti in cui gli sembrava di essere un individuo inutile degno solo della sua cara bottiglia in quei frangenti si sentiva vicinissimo al padre mamma pensò e poi chicca e ancora dopo i piccoli buoni annulla devono prendersi la purga e sai dove la vendono? quasi dappertutto cazzo la torretta gemette sotto una violenta folata di vento quando tornò la cuiete la ragazzina della lavagna era lassù con lui quasi la udiva a respirare alzò una mano da sotto i piumoni per un istante la tenne lì a mezz'aria ma poi sentì quella della sconosciuta che gliela stringeva piccola calda Abra mormorò il tuo nome è Abra anche se a volte ti chiamano Abby vero? nessuna risposta anche se non ne aveva davvero bisogno gli bastava quella mano calda nella sua la sensazione durò pochi secondi ma fu sufficiente a calmarlo gli si chiusero gli occhi e si addormentò a una trentina di chilometri nella piccola città di Aniston Abra Stone era sveglia nel letto la mano continuò a stringere la sua per un attimo dissolvendosi poi in nebbia però c'era stata lui era lì l'aveva incontrato in sogno ma quando si era destata aveva scoperto che era tutto vero si trovava sulla soglia di una stanza e quello che ci aveva visto dentro era tremendo e magnifico insieme c'era la morte che metteva sempre paura ma anche tanta pietà l'uomo che stava aiutando l'altro sul letto non l'aveva notata a differenza del gatto quell'animale aveva un nome simile al suo non mi ha vista ma ha capito che c'era e poco fa erano insieme credo di averlo aiutato proprio come lui ha fatto con il vecchio che poi è morto un gran bel pensiero ebbi se lo tenne stretto come la mano fantasma si rigirò su un fianco abbracciò il suo coniglio di peluche e tornò a dormire a dormire